Allora, questi giorni abbiamo passato qua in Polonia e ci sono stati questi due campi di concentramento che abbiamo visitato, che è Auschwitz e Birkenau. La cosa che mi ha colpito di più a parte al campo di concentramento di Birkenau è stato ad Auschwitz, dove abbiamo visitato la camera a gas, che veramente ti dà una botta allucinante perché ti fa vivere i momenti che hanno vissuto quelle persone lì dentro e anche vedendo, come ha detto Ilenia, i disegni che hanno fatto per i bambini è una cosa veramente, non emozionante, ma ti fa capire che anche loro non sapevano che cosa potessero fare in quei momenti.